con Neve, lui è molto dolce, molto buono veramente. Volevo raccontarvi la sua storia. Allora a Neve è mancato il proprietario ed è entrato qui perché si è ammalato e niente, è entrato qua. Poi è stato adottato, è stato qui un po' di tempo, poi è stato adottato da una signora con tanti figli e lui era felice in questa casa, era veramente felice, c'era anche un gatto e dormiva coi bimbi e è stato veramente bello in questo periodo. E poi è successo che un giorno andando a passeggio la bambina più piccola ha visto, Neve vieni qua che sto raccontando di te, vieni qui, ha visto un cucciolo, ha visto un cucciolo e lo voleva, ha battuto i piedi, ma mamma voglio il cucciolo, voglio il cucciolo con neve a spasso, che è arrivato anche il cucciolo. Poi abbiamo scoperto che Neve ha i peli bianchi e lascia tutti i peli sui cuscini e sui vestiti e ci siamo accorti solo adesso che aveva i peli bianchi e così Neve è tornato in canile. Adesso non so se l'altro cucciolo è nero e non lascia i peli neri ma tutti gli animali, anche noi lasciamo i peli. Neve, hai i peli bianchi, che ci vuoi fare? Troveremo qualcuno che ama il bianco.